Come mai è così complicato vendere le nostre fotografie online e quindi guadagnare dei soldi semplicemente con gli scatti che realizziamo anche solo con un telefonino? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e sono un fotografo che fa video su YouTube. Se mi seguite da un po' di tempo saprete che ho già dedicato diversi capitoli alla compravendita di immagini sul web. Sono qui oggi per spiegarvi come mai molti di noi fanno fatica a monetizzare i propri scatti e a vendere le proprie immagini sulle varie piattaforme online. Ovviamente il primo motivo in assoluto è che nessuno ci dà delle nozioni chiare su come funziona questo mondo e su che cosa ci viene richiesto. Per cui il primissimo consiglio che me la sento di darvi è di seguire immediatamente il mio canale attivando anche la campanella delle notifiche perché io spesso e volentieri quando capisco delle cose quando capisco delle dinamiche che regolano questo mondo faccio un video per informare chi può essere interessato. Quindi la prima cosa da fare se volete entrare nel magico mondo della compravendita di fotografie di stock è iscrivervi subito al mio canale e mettere anche un bel like a questo video. Chi lo farà immediatamente avrà un bel 30% di probabilità in più di diventare profittevole in questo campo. Beh, come non cominciare parlando di intelligenza artificiale, l'argomento dell'anno, del secolo, del millennio a me francamente ha già rotto le scatole. Mi aiuta veramente poco nel mio lavoro e non la vedo come una grossa rivoluzione per quanto riguarda me e il mio ambito. So benissimo che sta rivoluzionando l'intero pianeta e quindi ne vedremo delle belle nei prossimi anni sicuramente. Ma tenete conto, e questo ve lo do come incoraggiamento, che il mio lavoro come fotografo non è affatto diminuito da quando ci sono le intelligenze artificiali generative, anzi è aumentato. Quindi c'è richiesta di questo tipo di lavori, c'è richiesta di fotografie, c'è richiesta di fotografie vere. Quindi per me, per la mia esperienza, non è vero che l'intelligenza artificiale ha tagliato le gambe ai fotografi. Non è vero, e anzi ha portato a molti potenziali clienti la consapevolezza che certe cose ce le si può fare in casa e certe altre no, perché l'intelligenza artificiale ha dei limiti e molte cose non funzionano se ce le si fa a casa da soli, ma bisogna comunque rivolgersi a qualcuno che le sappia fare. Ma questo cosa ha a che fare con il microstock? Ci arrivo subito. Diverse piattaforme ormai accettano questo tipo di immagini, queste cose, questi Frankenstein realizzati con intelligenza artificiale generativa. Questo significa che abbiamo un bel po' di concorrenza in più, questo è vero. Però è vera anche un'altra cosa, che se le nostre immagini sono buone venderanno comunque di più. E anzi, l'intelligenza artificiale generativa porta con sé dei grossi limiti, perché molte piattaforme mettono delle restrizioni all'utilizzo che può essere fatto di queste immagini e molti clienti, lato cliente, non vogliono questo tipo di immagini, perché molti clienti non vogliono che venga rappresentata la loro attività con qualcosa di finto, di artefatto. Quindi, se si riesce a utilizzare un'intelligenza migliorativa per andare a modificare dei pezzettini di immagini, questo si può fare e questo è un conto. E in questo caso vengono ritribuiti tutti i creator che hanno contribuito al collage dell'immagine finale. Ma in caso contrario, diciamo che ci sono più contro rispetto ai pro. Dunque, come facciamo ad aumentare le nostre vendite? Sicuramente dobbiamo tenere conto di un po' di punti. Il primo, le immagini devono essere di qualità eccezionale. Perché? Perché oggigiorno, ragazzi, il mondo del microstock è pieno di signori fotografi, è pieno di professionisti. Ovviamente non tutti i fotografi riescono ad arrivare a fine mese semplicemente facendo matrimoni e battesimi. E io mi tiro fuori direttamente perché io non li faccio proprio matrimoni e battesimi. Però, insomma, non è facile per nessuno arrivare a fine mese. Quindi molti professionisti, anche bravi, si mettono a vendere le proprie foto su queste piattaforme. Questo significa che uno come me è a metà della catena alimentare su una piattaforma di questo tipo. Questo significa che è vero che ci sono molti fotografi più bravi di me. Però è vero anche che se vi mettete in competizione con me, dovete essere bravi quanto me o di più. Altrimenti difficilmente le vostre foto venderanno. Perché se vi mettete in competizione con me, dovete starmi quanto meno alla pari. Altrimenti le nostre foto costano uguali. Venderanno solo le mie se le vostre foto sono qualitativamente inferiori. Questo vale facendo il raffronto con me ma con qualsiasi altro. Ovviamente, siccome le foto di tutti quanti costano uguale, nel momento in cui siamo più bravi e riusciamo a vendere di più, ma nel momento in cui qualcun altro è più bravo di noi, venderà lui la fotografia che avevamo pensato di vendere noi. E guardate che molti su queste piattaforme copiano. Quindi questo che cosa ci deve dire? Un pochino che possiamo farci furbi e copiare a nostra volta. Nel senso che se c'è un bello scatto che ci piace possiamo prendere ispirazione. Ma dobbiamo anche fare attenzione perché quando realizziamo un buono scatto che vende tanto, finisce magari dentro nelle classifiche e gli altri utenti andranno a vedere gli scatti che sono in classifica e ce lo copieranno. Quindi noi possiamo usare questa cosa a nostro vantaggio, ma non dobbiamo neanche dimenticarci che verrà usata anche contro di noi. Realizzare fotografie impeccabili ovviamente non è sufficiente perché, come dico sempre, se realizziamo delle fotografie meravigliose ma inquadriamo sempre e soltanto i nostri alluci, o stiamo lavorando per OnlyFans oppure andremo poco lontano perché insomma ci sono delle piattaforme come OnlyFans dove le foto degli alluci possono avere un certo successo, ma sulle piattaforme di microstock ci viene richiesto qualcosina di più, ci viene richiesto di saper interpretare il mondo in cui viviamo, fornire delle chiavi di lettura. Addirittura vi ricordo che molte piattaforme di microstock mandano una shot list e per esempio io ho in mano la shot list del mese di agosto che mi è stata inviata come tutti i mesi da una di queste piattaforme di cui non faccio il nome, vi snocciolo alla veloce gli argomenti dichiarati, gli argomenti di interesse per la piattaforma. Questi argomenti sono viaggi e vacanze, quindi persone intente a caricare le valigie sulla macchina piuttosto che persone in viaggio, quindi viaggio in treno, viaggio in auto, viaggio in aereo, ovviamente persone riconoscibili, quindi tutte con liberatoria, quindi un qualcosa di concordato, non crediate di poter andare semplicemente alla stazione degli autobus e fotografare la gente a caso perché non è così che funziona. Le immagini realizzate in questo modo sarebbero editoriali e quindi non risponderebbero ai criteri che vengono richiesti dalle varie piattaforme. Un'altra cosa che viene richiesta sono fotografie di persone di una certa età, si fa specifico riferimento a persone di 50 anni o più, occupate in un lavoro che abbia a che fare con la tecnologia. Si fa riferimento specifico a 50 anni in una server room, oppure 50 anni con un tablet, oppure 50 anni con un collega più giovane che vedono delle cose tecnologiche insieme. Insomma, gli argomenti richiesti sono questi. Vi rendete conto che hanno pochissimo a che fare con l'intelligenza artificiale generativa e vi dico anche perché. Perché nel momento in cui esce una shot list significa che l'agenzia in questione non ce le ha quelle immagini e se non ce le ha vuol dire che difficilmente potranno essere generate con un'intelligenza artificiale che pesca tra le immagini già presenti. Questo è una banca dati che si va via via costruendo e un giorno non ci sarà più bisogno di niente, però al momento ci sono ancora determinate tematiche che non essendo coperte non possono essere coperte dall'intelligenza artificiale generativa, possono essere coperte un pochino ma non completamente perché se mancano i pezzi fa fatica l'intelligenza artificiale ad assemblare queste immagini, quindi dobbiamo fornirgli questi pezzi. E ovviamente una volta che gli forniamo una foto vera, la foto vera è meglio della foto finta, quindi possiamo fare una foto vera in cui c'è un'imprecisione sul muro dietro al soggetto e l'intelligenza artificiale può andare poi a sistemare quell'imperfezione sul muro, però il grosso, la ciccia dell'immagine gliela dobbiamo ancora fornire noi. Ovviamente in questo periodo se ci fosse qualcuno che fosse in grado di realizzare fotografie di guerra dalla Russia e dall'Ucraina la farebbe da padrone perché immagini di quel tipo sarebbero stracomprate in tutto il mondo. Infatti ci sono i reporter di guerra che però di solito lavorano per dei giornali, delle riviste o dei telegiornali, quindi magari hanno anche dei problemi di esclusività per via del contratto e difficilmente si mettono a vendere le fotografie su microstock perché hanno già guadagnato la loro pagnotta vendendole direttamente al giornale o alla rivista che li ha ingaggiati e quindi a quel punto non possono venderle altrove. Avete capito il concetto comunque? La fotografia deve seguire un principio di notiziabilità. È evidente che se io acquisto, faccio per dire, una nuovissima mirrorless appena uscita, quell'acquisto può essere in qualche modo monetizzato, perché se io fotografo la mia macchina fotografica nuova, probabilmente se è appena uscita avrà una sorta di richiamo mediatico per cui qualcuno mi comprerà la foto del mio nuovo device per parlarne in un articolo. Ovviamente se io compro un iPhone 6 non avrà lo stesso richiamo perché ha un telefono vecchio e c'è gente che le ha già fatte le foto di quel telefono, tra cui le ho fatte anch'io e ci ho già guadagnato all'epoca quando uscì. Quindi a seconda di quanto è notiziabile la fotografia che facciamo andremo ad avere dei guadagni più o meno alti. È importante fare questi ragionamenti perché ci aiutano a decidere che tipo di fotografie fare e dove mettere eventualmente le nostre risorse, perché spesso e volentieri realizzare uno shooting non è gratis ma ci costa delle risorse. Dobbiamo anche tenere sempre a mente che esistono dei precisi criteri che determinano se le nostre immagini verranno accettate o respinte e per questo motivo vi rilascio in card un video che ho già pubblicato dove vi spiego come si fa a farsi accettare più immagini possibili o cercare comunque di limitare le fotografie che non vengono accettate. Se sappiamo già che un determinato topic non viene accettato da una tal agenzia è inutile che facciamo fatica per realizzare uno shooting su quel topic perché poi non riusciremo a venderlo. Ovviamente queste cose nessuno ve le dice tranne il sottoscritto quindi di nuovo vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto rimanete sintonizzati perché di tanto in tanto pubblico aggiornamenti su quest'ambito e ogni volta che mi rendo conto di una determinata dinamica cerco sempre di portarvi un contenuto per raccontarvela dal mio punto di vista. Un'altra cosa che nessuno vi dice è che anzi le piattaforme cercano di scoraggiare è che bisogna la maggior parte delle volte andare a saturazione. Che cosa significa andare a saturazione? Vuol dire che io quando trovo un filone, un topic che riesco a vendere quando trovo un determinato argomento che vedo che mi viene comprato frequentemente quello che dovrei fare è continuare a battere su quell'argomento fino a saturare completamente tutta la piattaforma. Che cosa significa? Significa che se qualcuno cerca quel topic le foto che escono devono essere mie devo averne così tante da nascondere quelle degli altri in questo modo riesco a vendere sempre io magari non sempre la stessa immagine però l'immagine venduta deve essere sempre mia. Questo perché vi dicevo che la piattaforma cerca di scoraggiarlo? La piattaforma ve le rifiuterà le immagini se voi continuate a caricare sempre immagini sullo stesso topic la piattaforma comincia a rifiutarvele sistematicamente perché comincia a rispondervi questa è troppo simile ce ne hai già mandata un'altra queste ne abbiamo già troppe insomma sono tutte scuse semplicemente per limitare le vostre vendite perché se ve le lasciasse caricare verrebbero fuori solo le vostre quindi se venissero fuori solo le vostre ovviamente avreste nascosto le poche di altri competitor che avete verrebbero comprate sempre solo le vostre la piattaforma questo non lo vuole perché per quanto possiamo essere bravi le nostre foto saranno limitate in varietà cioè se noi scopriamo che le foto dei nostri alluci vendono tantissimo manderemo tantissime foto dei nostri alluci ma saranno sempre i nostri alluci invece la piattaforma vuole gli alluci di una persona di colore gli alluci di una persona con l'onicomicosi gli alluci di una persona con una ferita gli alluci di una persona in spiaggia e non in casa insomma vuole varietà vuole tanta varietà e per questo motivo tende a cominciare a rifiutare i nostri file se continuiamo a mandare lo stesso argomento ovviamente noi dobbiamo cercare di capire quali sono più argomenti dove potenzialmente possiamo realizzare degli scatti che vendono e dobbiamo cercare di saturarli il più possibile ma anche offrendo varietà alla piattaforma altrimenti comincia a rifiutarci le immagini come si fa a offrire varietà? beh sicuramente una volta individuato un topic si può cambiare lo sfondo cambiare la location cambiare le persone coinvolte queste sono tutte strategie consentite assolutamente lecite e efficaci che ci consentono di continuare a saturare la nostra nicchia ovviamente sono strategie costose perché magari se dobbiamo cambiare posto dobbiamo spendere dei soldi per muoverci magari se dobbiamo cambiare le persone dobbiamo pagare più modelli quindi non è indolore la cosa però è l'unico modo per arrivare a saturare la nostra nicchia in maniera tale da vendere di più su quel determinato topic che abbiamo scoperto essere profittevole per noi andiamo adesso a vedere la cosa che probabilmente interessa di più un pochettino a tutti quanti quelli che hanno cliccato questo video ovvero quali sono le fotografie che vendono di più in assoluto allora faccio una classifica che è mia personale quindi qualcuno potrà avere esperienze diverse questa è semplicemente la mia classifica personale al primissimo posto io ci metto purtroppo l'attualità le immagini di attualità vendono sempre tantissimo perché appunto sono le notizie del momento quindi per esempio lo scoppio di una pandemia oppure un'inondazione, una catastrofe naturale, un disastro aereo quelle sono sempre foto che vendono tanto perché vengono comprate sull'onda dell'emotività quindi nel momento in cui una notizia è notiziabile nel momento in cui si sta parlando di un determinato tema ecco che immagini relative a quel tema venderanno sempre tanto in tutto il mondo soprattutto se è una notizia che riguarda tutti ovviamente un incidente stradale che ha visto coinvolte due api che trasportavano cocomeri ovviamente non fa tutta questa notizia però un grosso incidente su un viadotto invece potrebbe ed ecco che fotografie di quel viadotto o di treni che transitano in quella regione potrebbero diventare improvvisamente di grande interesse al secondo posto mettiamo Lifestyle le fotografie in cui riusciamo a far vedere degli spaccati di vita quindi riusciamo a rendere l'idea di che cosa le persone stanno facendo e possono essere scene di famiglia scene di viaggio, di lavoro persone in ufficio, muratori al lavoro pescatori, qualsiasi cosa basta che abbiano a che fare un minimo con quella che è la vita di oggigiorno ovviamente se realizziamo delle bellissime foto di Lifestyle di soldati durante la prima guerra mondiale ovviamente avranno un richiamo molto più limitato mentre se facciamo una fotografia di teenager fuori da una scuola che guardano il cellulare mentre aspettano i risultati dell'esame quella è una fotografia che quasi certamente venderà ed è più difficile da realizzare perché bisogna trovare dei minori e farsi dare il consenso dai genitori per farli fotografare quindi non è una foto facile da fare al terzo posto vi metto come sempre tecnologia se abbiamo dei ritrovati tecnologici di qualsiasi tipo fotografare i nostri device probabilmente qualche piccolo introito lo genererà sempre se compriamo un nuovo smartphone la foto dello smartphone sicuramente due soldini ce li fa entrare nelle tasche se compriamo un nuovo computer una macchina fotografica un'automobile qualsiasi cosa qualunque cosa che compriamo di nuovo e di moderno sicuramente qualche vendita ce la porterà ovviamente non bisogna cadere nella trappola di comprare un qualcosa solamente per fare la foto perché a quel punto siamo in perdita garantita spendiamo 500 euro per comprare un device poi guadagniamo 5 euro con le foto che abbiamo venduto quindi quella è una trappola in cui bisogna evitare di cadere un'altra cosa che vedo che sta andando moltissimo sono le illustrazioni quindi illustrazioni di icone ma anche illustrazioni un pochettino più complesse quindi illustrazioni disegnate proprio anche i veri e propri disegni sono una cosa che su microstock stanno continuando a vendere nonostante stiano venendo generate ormai da intelligenza artificiale invece che da disegnatori quella sì che è stata una grossa botta i disegnatori sì che stanno subendo tantissimo l'impatto dell'intelligenza artificiale molto più dei fotografi secondo me almeno molto più del sottoscritto e veniamo al tasto dolente animali e paesaggi amici io lo so che queste sono le foto preferite da tutti quanti lo so benissimo però paesaggi siamo già completamente saturi tutte le piattaforme dei microstock coprono l'intero scibile umano in ambito paesaggistico e quindi è sostanzialmente inutile caricare i nostri bei paesaggi animali la stessa cosa ce ne sono troppi di animali ci sono troppi animali sulle piattaforme di microstock è impossibile vendere fotografie di paesaggi di animali su quelle piattaforme perché ce n'è già troppe e sono nicchie già saturate da altri quindi facciamo una fatica incredibile a cercare di rincorrere la saturazione già portata a termine da altri in anni più fertili facciamo veramente fatica ed è controproducente è meglio puntare su altre nicchie fotografia di matrimoni e fotografia newborn ora queste sono nicchie che secondo me rimangono profittevoli però c'è un grosso però sono nicchie incredibilmente difficili da coprire per almeno due ottime ragioni la prima è che normalmente per avere accesso a fotografare un matrimonio bisogna essere i fotografi di quel matrimonio e normalmente quando io fotografo un matrimonio poi non mi metto a chiedere agli sposi se posso vendere le loro foto cioè la mia professionalità ne esce un pochettino distrutta da un'interazione di questo tipo quindi non lo faccio sarebbe molto difficile oltretutto convincere gli sposi a far divulgare le loro fotografie ovunque quindi l'alternativa che rimane è organizzare uno shooting con modelli e modelle abiti finti abiti di scena per inscenare un matrimonio ma è molto complicato perché un matrimonio costa e ricreare tutto quell'ambiente senza avercelo davvero è molto molto proibitivo ciò non di meno se si riesce per qualsivoglia motivo andare magari con la macchina fotografica a un matrimonio di amici quindi non a fare le foto del matrimonio ma a fare delle foto degli sposi così giusto per noi giusto per venderle sapendo già che ci danno ovviamente la liberatoria quella può essere un'ottima cosa perché quelle foto secondo me ancora un po' mancano ancora possono essere vendute parecchio fotografia newborn stessa cosa quindi fotografia di bambini piccoli neonati, infanti anche quella è una cosa che continua a essere molto richiesta perché è difficile avere accesso alla materia prima sono pochi i genitori che mettono a disposizione i loro bambini per uno shooting di questo tipo o meglio i genitori magari lo vogliono lo shooting ma lo vogliono per loro difficilmente firmano una liberatoria per cui poi le foto del loro bambino della loro bambina vengono messi in pasto a chiunque su internet quindi è difficile avere accesso al bambino anche lì se ci riusciamo se abbiamo un bambino e siamo senza scrupoli vogliamo fargli le foto per guadagnare due lire oppure se abbiamo degli amici che hanno un bambino piccolo e ci prestano il loro bambino per fare questa cosa anche questo può essere uno shooting molto molto interessante dal punto di vista delle vendite vi lascio fuori la fotografia musicale e la fotografia sportiva perché sono tante troppe le piattaforme che non accettano niente in quest'ambito quindi fotografia musicale fotografia sportiva per musicale intendo fotografia live quindi eventi dal vivo la maggior parte delle piattaforme rifiutano sistematicamente tutto avrebbero anche poco mercato perché comunque se ha suonato la band tal dei tali o l'artista tal dei tali ci sono i fotografi ufficiali quindi è difficile che uno vada sul microstock a cercare la foto di quell'artista perché ci sono già le foto ufficiali che vengono date come press kit per fare le comunicazioni relative a quell'evento e quindi sono gratis sono già fatte è difficile che uno vada a pagare per avere quelle stesse immagini idem dicasi per lo sport e oltretutto ci sono anche per entrambi i casi dei problemi molto forti di licenze e di esclusività quindi nel momento in cui io accedo all'arena di un concerto nel momento in cui io accedo a un palazzetto sportivo io non posso fotografare quello che sto vedendo voi direte ma io lo faccio sempre con lo smartphone sì stai commettendo un illecito in realtà un illecito che nessuno ti contesterà mai perché sei con lo smartphone e quindi te lo lasciano fare perché non possono confiscare lo smartphone a tutte le centomila persone che vanno al concerto di Vasco quindi glielo lasciano fare però con lo smartphone è un conto sono immagini non professionali e non utilizzabili non vanno bene per la stampa faranno schifo saranno piene di rumore saranno tutte storte con altri telefonini davanti quindi sono inutilizzabili non sono professionali è diverso se siamo nel pit o se siamo comunque in posizioni privilegiate e scattiamo con equipaggiamento professionale a quel punto le nostre immagini sono esclusive per l'evento e sicuramente qualcuno ce le ha commissionate un giornale una rivista l'artista stesso uno degli sportivi uno dei team delle squadre in gioco a quel punto però noi non possiamo vendere quelle immagini perché abbiamo avuto la possibilità di scattarle solamente perché siamo stati forniti di un pass quindi abbiamo avuto un privilegio e il costo di quel privilegio è che le fotografie dovranno essere consegnate solamente a chi ce le ha commissionate e comunque verrebbero rifiutate dalle piattaforme di microstock perché la piattaforma vedrebbe che sono state scattate in una location dove comunque ci sono vigenti dei diritti di esclusività e verrebbero sistematicamente rifiutate quindi da questo punto di vista credo proprio che non valga nemmeno la pena investirci perché sono immagini che difficilmente vendono e difficilmente vengono anche solo prese in considerazione bene amici non voglio diluggarvi ulteriormente su questo contenuto vi aspetto come sempre nei commenti fatemi sapere se qualcosa non è chiaro fatemi sapere se state riuscendo a vendere qualche file fatemi sapere se vi interessa se continua a interessarvi l'argomento se volete altri contenuti sulla fotografia di microstock e come fare a essere profittevoli nella vostra nicchia io vi ringrazio come sempre di aver passato il vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti Grazie per la visione!